Siamo qui con il dottor Francesco Russo, chirurgo plastico ricostruttivo ed estetico specializzato nel rimodellamento corporeo. Benvenuto dottore. Grazie mille. Dottore ci può parlare della mastoplastica additiva? La mastoplastica additiva è un intervento che consente un aumento del volume e delle dimensioni del seno tramite l'utilizzo di impianti mammari o protesi. Tali impianti possono essere di morfologia rotonda oppure anatomica a seconda delle esigenze specifiche della paziente. Cos'è dottore la mastopessi? Allora la mastopessi o lifting del seno è un intervento che consiste in un risollevamento della ghiandola mammaria o tramite degli impianti mammari e grazie anche ad un rimodellamento ghiandolare chirurgico oppure semplicemente con un rimodellamento della ghiandola sfruttando la quantità di ghiandola presente all'interno del seno stesso ovvero con una autoprotesi per cui in tal caso non vengono utilizzati gli impianti. Grazie dottore. Grazie mille.